Era stato realizzato in occasione degli interquartieri previsto per l'ampliamento della terza corsia della 14 e dopo un periodo di sperimentazione il comune di Fano aveva deciso di dedicare il sottopasso di via Fanella soltanto al passaggio di ciclisti, pedoni e scooter. Così però non è perché a detta di alcuni residenti New Jersey posizionati al centro della carreggiata per evitare il passaggio di auto, moto e apecar non servono un granché. Succede che purtroppo la gente corre, corre tanto, corre in moto, corre in motorino, passano macchine nonostante il tratto sia interrotto da anni. La gente qui l'ha preso come un passaggio sicuro per passare col cane, per passare in bicicletta, per attraversare da Centinarola a passare a Fano 2. È solamente che non è più così perché purtroppo già l'illuminazione è scarsa e tutto il resto la gente non tiene conto dell'esigenza di chi va in bicicletta o a piedi. Avete già visto diversi episodi? Sì, abbiamo già visto diversi episodi, una volta, due volte hanno quasi investito la mia fidanzata, una volta un motorino a momenti prendeva sotto un signore in bicicletta. Il problema è che anche avvertendo chi di dovere non interviene. Più volte avete segnalato la questione a chi? Ai vigili urbani sulle 6-7 volte. Invece quando è successo il fatto del signore anziano abbiamo chiamato direttamente la polizia. Abbiamo visto la volante passare ma non si è fermata né niente. Perché non ci sono telecamere quindi comunque risulta un po' complicato individuare i furbetti. Esatto, il problema è proprio quello. Anche la segnaletica e gli stessi New Jersey, spesso vuoti, prosegue Eric, sono stati spostati più volte dai cittadini pur di passare con mezzi ai quali non è consentito l'accesso. Basterebbe posizionare dei dissuasori fissi, paletti o panettoni in cemento o meglio ancora installare le telecamere di videosorveglianza per stanare e montare i furbetti. Che cosa chiedete al Comune? Chiediamo che si sappia che cosa si vuole fare di questo tratto stradale interrotto e che soprattutto se si vuole tenere come passaggio pedonale o ciclo pedonale che venga messa una segnaletica per i pedoni e per chi va in bicicletta e soprattutto un qualcosa di fisso che non permetta a chi vuole passare col motorino o con la macchina di passare in un tratto che non gli è dovuto passare.